Il Modena vince a Trieste dopo 56 anni e in guai agli albardati. Emiliani autorevoli fin dall'avvio mentre la Triestina si fa viva solo in un paio di circostanze su calci d'angolo. Modena vicino al vantaggio il diagonale di Sommese coglie l'incrocio. Poi quasi solo Triestina che ci prova comunari con una serpentina di bau e con un destro di Moscardelli aiutato da un buco difensivo. Ma prima dell'intervallo è ancora dei canarini la palla buona. Il tiro di Graffiedi è deviato in extremis. Fiammeggiante l'inizio di ripresa. Secondo minuto azione di Asamoa. Palle in area deviata e il diagonale di Troiano porta in vantaggio il Modena. Quinto Mazzoleni prima segna rigore a Godeas poi da retta il collaboratore che segnalava l'offside. La rabbia della Triestina. Testa di Munari. Miracolo di Frezzolini. Poi Moscardelli tutto solo e sinistro e fuori e il fuoco alabardato è di paglia e si spegne nel recupero con il bolide di Asamoa che fissa il 2 a 0 per il Modena.